Porta lettere ai tempi del coronavirus, stop alla consegna diretta di raccomandate, pacchi, bollette, assicurate, nessun contatto con gli utenti che vengono avvertiti del recapito lasciato poi nella cassetta postale o nell'atrio delle abitazioni, sanificazione di uffici e magazzini di auto e moto. Un protocollo rigido dato dai vertici di poste italiane, denominato posta in cassetta ai suoi dipendenti in seguito alle misure adottate dal governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus, un servizio che non si è mai interrotto nonostante postini scaglionati in più turni per evitare assembramento e concentrazione di più lavoratori. Domenico Colanardi è il direttore del centro di distribuzione di Lanciano. Massima cautela naturalmente con tutti i dispositivi di protezione individuali che l'azienda ci ha forniti, di mascherine, guanti, gel igienizzanti. Abbiamo fatto oltre a questo la sanificazione di tutti i locali, in questa settimana li rifaremo. Abbiamo fatto la sanificazione di tutti i mezzi aziendali e in questa settimana verranno fatti nuovamente proprio per dare maggiore sicurezza a tutto il personale e nello stesso tempo alla clientela anche. Il servizio non si è mai interrotto, abbiamo sempre garantito le consegne e come dicevo poc'anzi abbiamo cercato di rendere le consegne diluite nel giorno, nella giornata nel senso che sempre con orari sfalsati e quindi la consegna arriva nel primo pomeriggio ma la consegna pacchi raccomandate, posta ordinaria e comunque è stata sempre consegnata dal primo giorno dell'evento ad oggi. E cade così la tradizionale consegna Brevi Manu, portalettere che citofona, firma di sua mano l'avviso di ricevimento, spiega al destinatario che in alternativa può richiedere il rilascio dell'avviso di giacenza per poi ritirare la busta o il pacco nell'ufficio postale. Il nostro lavoro in realtà non è cambiato più di tanto perché comunque abbiamo sempre lavorato e certamente con tutti i dispositivi di sicurezza e mantenendo sempre la distanza col cliente.